Ma buona! Ciao! Buonasera e benvenuti! Adesso a breve riguardiamo la clip insieme ma 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 prima di riguardarmi, mi cacci, ormai sei sulla mia stessa lunghezza l'onda. Stai diventando molto brava. Allora mettiamo a fuoco i ori e dopo essere... No, ma sei scema? Ma ti metto a fuoco e... Allora, qual è il topic di oggi? Pensavo di fare un piccolo gioco horror insieme, io e la buona iori. Allora, libreria, libreria, ragazzi siamo già caldi, siamo già nel mood, voglio vedere iori che urla, voglio vedere iori che piange perché no il sangue per terra le budella, wow! Quindi splatteri, quindi splatteri devono sembrare belli a confronto, voglio vedere la morte, i bambini che urlano, scappano e dicono... No, non volevo il sangio... tenga... Col mouse ti muovi. Ah, bello! Puoi anche usare l'altra advertise, tipo, il citofono IL CITOFONO, L' INDIATRO! L'indietro io andavo indietro! Agli o ho, leggi un'altra voce, ci sono dei fan e sei una youtuber. Ha il livello di sanità tipico? il livello di sanità del tuo personaggio riflessi sul tuo gioco le sale troppo a lungo al video ridurrai il livello di sanità del personaggio tale il livello indicato con un'icona a forma di cervello che si trova all'angolo ma non corre la pilloletta la sei mancata subito però c'è la luce davanti giro a te destra apri accendino accendino destra 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 ammazzalo ora si possono ammazzare ammazzalo paolo un po' di cienso no 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 questa roba no questa roba no questa mi fa paura ammazzala andiamo in incontro dritto vai vai corri vai paolo corri di addosso chiudi gli angliia vi entra dentro vi entra vi entra non va allora girati girati siamo morti siamo morti no no che è successo? oh si ma che senso ha se non puoi combatterli? scappi non lo spiegato prendi il mouse 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 quando non ce la sentavamo entra dentro entra che bastardi interagisci dai è rotto uno specchio entra ma è uno specchio rotto vai là Paolo fermo fermo Paolo aspetta idiota ci servono le lampadine vedi che ce l'ha vedi che ce l'ha vento vento la macchia vento la macchia vento porca puttana Troia vai vai spazio parca 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 puttana non aprire le bambine in generale Iori dai getti getti ? oi attacidad ci rendi ci rendi ci rendi ci rendi ci rendi ne ahhhh ai ooooo ooo man Ma ti ha detto che voleva il tè? Eh voleva il tè e quindi c'è un coltello che vuole il tè! Basta, basta, basta! Ma poi questo gioco fa schifo! Paolo! Allora questo è il gioco ovvero il migliore che io conosca! Salutiamo, non ce la faccio, basta! Basta! Ragazzi vi ringraziamo! Da me e da io è tutto! Ah basta! Dio cane oh! C'è brividi cazzo! E' come questa! Adesso quindi è lumpo! Sì! Sì! E' l'apparco! C'è view di quasi e l'apparco! Sì, c'è un bambino. Come here, bambino. Yeah, buon bambino. C'è un bambino.